ciao buongiorno eccoci qua oggi abbiamo fatto una bella uscita sono appena arrivato quindi oggi inizio subito con un video così giusto per qui abbiamo il garettino pronto fa bene o male caldo ma non eccessivo per il momento e sono tornato in un campo dove avevamo stati con alessandro con grizzly l'altra settimana dove ho trovato un buono da due da due lire e un'altra moneta ho detto bon dai facciamo un giretto vediamo se c'è ancora qualcosina disponibile e adesso iniziamo partiamo impostiamo il macchinario però io come al solito c'è sempre una mano per fare tutto quindi mi devo organizzare e vediamo com'è l'inizio oggi alessandro mi ha tirato bidone cominciamo subito con un segnaletto oggi mi ha tirato bidone mi ha appena mandato una foto che è andato in spiaggia senza metal anche perché aprono le stagioni quindi adesso non si può vediamo se ha preso il buco giusto il mio brevetto vediamo se funziona no niente troppo dura la terra una schifezzina dov'è qua io scemo non ho messo neanche i guanti fermo lì vediamo se ci sta ecco mi sembrava io senza guanti mi sento nudo si stai buono eccoci allora chiediamo il buco riprendiamo sulla pala qua c'è il problema che abbiamo i cavi anche sopra quindi magari fa interferenza scusate un attimo il delirio del telefono ma devo vedere come prenderlo niente l'altra volta qua ciuffo d'erba avevo trovato un buono da due lire del 26 abbastanza tenuto bene è un'altra moneta un'altra moneta di regno d'italia mi sembra togliamo via un pochino di sensibilità perché c'è il terreno bagnato ecco qua vediamo qui comincia a uscire il sole allora vuol dire che comincerà a far caldo tra un po' anche perché è mezzogiorno quindi come all'inizio probabilmente una 10 lire infatti beh dai una moneta la seconda buca direi che ci sta una bella 10 lire infatti ero fiducioso su questo campetto qui già caldo caldo a 7 volevo andare in quello in parte ho visto che hanno seminato e quindi sono tornato su questo non so se c'era quel pezzo che avevo in mano prima no no questo un pezzo di ferro comincio a scottare io poi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale cliccare la campanella commentare solite cose sono ogni tanto mi ricordo anch'io di dirvelo quindi 10 lire eh dai già comunque un inizio adesso facciamo ancora un buco dopo faccio una pausa acqua perché ok che sono appena arrivato però siete sete anche perché ho detto usciamo oggi va ho detto usciamo oggi perché la settimana prossima qua a Udine c'è l'adulato degli alpini è un delirio ci riuscirà anche perché io abito in zona abbastanza centrale quindi sarà un macello questo è anche abbastanza superficiale segnaletto buono vediamo ah un tubetto buono un segnale sì tubetto questi non mancano mai adesso bevo un bicchiere d'acqua poi ci vediamo più tardi ciao